Il comune di Castellabate apre allo svolgimento della pratica forense presso l'ufficio avvocatura dell'ente. La decisione dell'amministrazione comunale rappresenta un contributo importante per i neolaureati in giurisprudenza che intendono prepararsi allo svolgimento della professione. L'avvio del tirocinio professionale consentirà di ricevere un'adeguata formazione nei principali settori di interesse quali diritto civile e amministrativo, tributario e penale. I tirocinanti selezionati svolgeranno il proprio praticandato sotto la guida di un avvocato professionista presso la sede centrale della Casa Comunale in Piazza Lucia a Santa Maria. Gli aspiranti avvocati saranno scelti mediante selezione pubblica per titoli e colloquio e una volta selezionati verranno iscritti nel registro speciale tenuto dall'ordine degli avvocati presso il Tribunale di Vallo della Lucania, quali esercenti la pratica forense presso l'avvocatura comunale. Il sindaco Costabile Spinelli dichiara in merito all'opportunità, abbiamo avviato le procedure per sostenere un percorso professionale e formativo di grande spessore. Vista l'esperienza che i neolaureati potranno acquisire sul campo e all'interno di un ente pubblico, attraverso queste forme di percorsi didattici, di stage professionali e il servizio civile, ci auguriamo che la nostra sede istituzionale diventi sempre di più un punto di riferimento per la formazione e la crescita individuale e collettiva.